ciao a tutti da ivan videotest con lg g3 a 1080 quindi full hd facciamo subito una panoramica un po veloce cambio di luce direi veloce macro non velocissimo però comunque l'ha fatto e dato i miei ultimi test con il nokia 930 è già un buonissimo risultato anche se vedo che ora ci ha messo parecchio a fare il cambio di messa a fuoco riproviamo ok guardate che bello anche il riflesso del sole nel nero cambio ok non velocissimo però comunque ce lo fa ora considerate che c'è parecchia luce perché il sole praticamente è proprio quasi di fronte non proprio di fronte però insomma condizioni non proprio ottimali per questi sensori super economici che vengono montati sugli smartphone vedete la messa a fuoco quando si passa da una macro poi a una panoramica ci mette un po comunque lo fa più veloce se rimaniamo a distanza macro di nuovo e si ricambia ok cambio di luce mi è sembrato almeno dal display veloce si direi veloce bene con questo è tutto lg g3 videotesta 1080 ciao da ivan